Oh, io non ne posso più di schifo. Putta come un letamaio. Mangia e beve come un porco. Car ragazzi, l'altro giorno sono passato mentre c'è uno stivalazzo mi è esploso una bomba atomica nella narice. Calma ragazzi, è vero, è un rompicazzo. Però appena sistemato bolla lo scaraventiamo via dalla nostra vita senza pietà. E poi dai, ultimamente sembra quasi che si stia sforzando per integrarsi nella società. No! È il barcone di casa nostra! Guardate il camera di bolla! Sembra un raduno dei briccattoni! Qua ci deve essere un zampino di polo strappo tuttissimo di schifo! No! Sì, no! Le chiavi! Non ce le ho! Ce le ho! Ce le ho schifo! No! Ce le ho! Ce le ho schifo! No! 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 La credenza della nonna! No! 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 razza di incivili fottuti figli di papà che vi nascondete dietro la maschera di studenti per poter fare i vostri porzi e comodi adesso basta la pacchia è finita ma il mio strattone si calma non è che mi fa sentire se l'entio scapestrato non so che scusa avete inventato stasera ma non è prego un cazzo parassiti bastardi mantenuti col sudore della fronte e i vostri genitori a cazzeggiare ho cercato di essere magnanimo con voi ho chiuso un occhio in situazioni in cui un altro vi avrebbe sbattuto fuori e caccia nella figa e poi lo so che vi fate quei lavori che si fanno i giovani d'oggi gli spinelli comunque sia la mia lettera di sfratto si abbatterà sulla vostra cassetta postale una benedizione per questo condominio ahahahahah ahahahahah ahahahah se entro cinque minuti non la smettete di fare questo bordello io chiamo la polizia non so dove andremo cosa faremo calma non ci possono sbattere fuori così scommetto che in questo edificio un sacco di impianti non sono a norma e scommetto anche che quel volpone dell'amministratore ha fatto la cresta sulle spese condominali ci andremo al ricatto giusto e se necessario l'omicidio mamma si la tazza del latte il piede del letto la bambola gonfiabile nooo ciao scherzo ehi che è sta merda per terra qua grazie di tutto dalla nottata mi sono preso qualche ricordino ciao 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 ehi ma ma abbiamo sbagliato casa ma no questa è casa nostra eh la casa nostra ma c'è stato un big bang un twister è passato un armageddon ma che cosa la tv non c'è più niente non c'è più niente